Castello Arquato, dove è stato girato il film Lady Hock. Questa è una chiesa con gli abisiti. Questa risale prima ancora dell'anno 1000. Questa è una chiesa con gli abisiti. Questa è una chiesa con gli abisiti. Questa è una chiesa con gli abisiti. Questa è una chiesa con gli abisiti.